Odio dovertelo chiedere, ma mi hai portato qualche tazzo a muovo. Vuoi, vuoi davvero sapere chi sono? Io? Nessuno chiede mai di macchie, mi rendi così felice. Hai presente quei grandi imponenti Securitron con le loro pistole laser e i lanciomissi e le facce spaventose? Io non sono uno di quelli. Dottor Oh ha sempre invidiato l'industria house e ha pensato che sarebbe stato divertente costruire un piccolo Securitron nevronico, proprio divertente. Quindi, ehm, hai delle tazzine da darmi o...? Perché cosa sei una specie di psicopatico sessionato dalle tazze? Dai dammi la tazzina ti prego, è lì nella tua borsa e mi sto provocando. Scusa, eh, mi dispiace, mi sono innerposito. È solo che tutti quei cavolo di piatti sporchi, lì fuori, con nessuno che li pulisce, mi spezzano il cuore. Certo che lo sono. Mi hanno fatto così. Credi che non sappia quanto sembra pazzo? Certo che lo so. Mi hanno programmato anche per saperlo. Mi hanno creato per torturarmi. Ma sai, l'arma più potente è l'indifferenza. Ehi gente, trasformiamoci in cervelli robot in basca. Sai quante tazzine usano al giorno i cervelli in basca dei robot giganti? Non molti cazzo! Devo tenerle pulite. Oddio! Il solo pensiero di tutti quei piatti sporchi lì fuori mi fa impazzire. Molti saranno irrecuperabili ormai. L'unica cosa che si può ancora fare è romperli e convertirli in materie prime. Forse quelli potrai prenderli. Il nuovo argomento riguarda le tazze. Certo che no. E perché dovresti? Tu non sei un robot mezzo matto ossessionato dalle tazzine. Ai tuoi occhi sono solo immondizia. È ovvio. Nessuno vuole stare con Maggie. Lo capisco. Addio amico. Ho. 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 Grazie a tutti.